e vediamo di vincere abbiamo preso un gatto e vinci di 5 euro a battaglia navale vediamo se questa mattina esce qualcosa D4 P3 facci vincere stamattina un paio di mila euro H3 D5 beccata un altro per uno e due spesso è lunga non è e B2 niente ma vediamo tutta la griglia se sta alla 50 euro mi sa che ne sta andando proprio niente a posto niente niente se uscire si è un broccasino di 1 euro a posto ciao a tutti tchau a tutti Grazie.